segna un po' il basso ma il gruppo non rientra intanto va a fare sforzi e fatiche che probabilmente potrebbero poi pagare grandissimo ora ci stiamo dirigendo verso il derby e senti che innesca, quindi la portante ce l'ha e quindi non è di microfono questo punto perché la portante la innesca la portante la portante non c'è sono quasi solo